Ecco il caffè. Dopo, dopo. Ma dopo si raffredda. E lo faccio a questi libri. Sui libri? Leva la tazzina. Ma vi pare questo il momento? E' il nuovo caffè della lavazza. Si chiama crema e gusto. Ogni momento è quello giusto. Carine, sembra di il gatto e il gatto. E chi è la volpe? Nessuna delle due. Proviamo crema e gusto. Il gusto c'è. L'aroma pure. Annalena, sai qual è il pericolo? Uno che non ha mai bevuto un caffè alla lavazza, adesso con crema e gusto si beve pure alla lavazza. Guardate crema e gusto. E' rossa e blu, per non dimenticarla più.